Adesso però, non è che loro sono qua, ma qua sopra c'è questa canzone che si chiama We Still Alive, se non la conoscete lo stesso perché dovete dire tre parole che sono No Way Back, ok? Ne ritornei, gliele facciamo dire, Francesco, Francesco, vai da qua, no. E' emozionato. No Way Back, proviamo. No Way Back. Ok, alle. One, two, one, two, three, four. No Way Back. No Way Back. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti